La modalità di debug consente di ricercare e bloccare tutti gli script inseriti nel tuo sito web. Questa modalità è utile, ad esempio, nel caso in cui si riscontrino problemi nel sito web, come menu non più visibili, pagine che non risultano più configurate correttamente e altro ancora. La funzione ti consente inoltre di capire se, bloccando gli script, il sito riprende a funzionare correttamente. Per attivarla, apri il menu principale in alto a sinistra. Seleziona impostazioni, modalità debug, abilita il flag indicato. Una volta attiva, si visualizza un messaggio di conferma. Clicca su pubblica per rendere pubbliche le modifiche a tutti gli utenti. Conferma la pubblicazione allo step successivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.